Ok, insieme a Davide, si nasconde dietro alle quinte Lorenzo che è un altro dei soci che è un po' vergognoso ma lo chiamiamo perché ci tengo a sottolineare che è presente anche lui qua con i ragazzi e il peschereccio di Alalunga e lui che ci porterà prossimamente in mare e così poi vi svelerò un po' dei nostri posti segreti successivamente anche in laboratorio perché sono curioso di vedere come funziona tutto quanto è in laboratorio. Ok, un saluto a Savona News. Ciao. Ciao. Perfetto. Faccio un paio di foto così...